Allora amiche e amici buonasera, stasera è un avvenimento eccezionale il nostro, abbiamo con noi il dottor Luciano Galassi e il professor Paolo Laudizio che ci tratterranno insieme poi ai due attori che tra poco si ossidano, speriamo di darvi qualche momento di serenità e di allegria. Il dottor Luciano Galassi è socio dell'Unitresa Argentina, viene dal Gomero, da giovane ha fatto il dirigente d'azienda, quando poi ha smesso, si è stancato di fare il dirigente d'azienda si è messo a scrivere e con grande successo è diventato una fonte inesauribile di volumi e ormai è il maggiore esperto credo nel mondo di napoletanità, tutto ciò che riguarda la cultura di Napoli. I suoi libri sono appunto l'espressione di questo suo studio e approfondimento di quella che è la lingua napoletana, i detti napoletani, i uennerismi, i proverbi, i modi di dire, tutto ciò che riguarda la lingua napoletana e il suo patrimonio e ce lo dà, ecco, ce lo graziosamente ce lo fa conoscere attraverso i suoi libri. Con lui fa coppia fissa, non faceva notare il signore poco fa, dice ma stanno sempre insieme. Ecco, il professor Paolo Laurizio, sono amicissimi ovviamente e quindi nessuno meglio del professor Paolo può parlare dei libri di Galassi. Io mi fermo qui e do a lui la parola, ringraziandoli di essere venuti dal Bovero fin qui e sperando, no, il professor Galassi, il dottor Galassi ha fatto anche delle conferenze a Vico, ma è sempre disponibile a venire anche a piano, a sorrento, ovunque noi abbiamo le nostre sedi.